Il gruppo Ermen e Gildo Zegna rischia di rimediare nel suo stabilimento Matex di Montesilvano una pessima figura. Nonostante fama, prestigio e qualità che ne fanno leader mondiale nella produzione di tessuti, cash, mirlino, telo, per l'alta moda ed abiti di lusso, lo scorso giovedì non ha esitato a rispedire a casa circa 50 dipendenti. Una decisione immotivata ed incomprensibile spiegano Domenico Rong e Massimo Di Giovanni di Filtea CGL e Remo Pavone di Femca Cisle. La crisi del settore, infatti, sarebbe congiunturale e non strutturale. In più, la Zegna a Montesilvano ha a disposizione 52 settimane di cassa integrazione ordinaria per i suoi dipendenti e ne ha utilizzate solo 26. Per uscire dalla crisi temporanea, la Zegna non avrebbe quindi costi, ma venerdì in Confindustria davanti ai sindacati ha ribadito la decisione. Ora i lavoratori si appellano alle istituzioni per sollecitare un ripensamento della proprietà. Questa mattina l'incontro con il sindaco di Montesilvano e la Stampa, mentre i rappresentanti sindacali saranno ascoltati dagli assessori regionali al lavoro ed attività produttive giovedì 30 luglio, poco prima dell'incontro decisivo in Confindustria con i rappresentanti del gruppo Zegna.